per la terza del San Paolo e sono partiti lo stacco della macchina con al comando Levriero Rivarco che all'esterno Omera Wynn SM poi lungo la corda Pulcinella Jet adesso è Omera Wynn che va davanti nei confronti di Levriero poi Pulcinella mentre ha sbagliato New Dream Rex cavalli che sono sulla dirittura opposta alle tribune adesso Levriero Rivarco va a chiedere strada a Omera Wynn SM i primi 400 di gara che vanno via adesso con Levriero Rivarco che diventa nuovo battistrada Omera Wynn SM seconda Pulcinella Jet terza poi Martina OM Pepe Dell'Alvio chiude Morgana B i cavalli dopo 600 di gara passati in questo istante con un parziale svelto ancora da Levriero Rivarco si sposta dallo steccato Pepe Dell'Alvio che quando i cavalli transitano davanti alle tribune si trascina Martina OM non muove Pulcinella Jet i cavalli sulla penultima curva con Levriero Rivarco che comunque ancora tiene teso il ritmo Pepe Dell'Alvio però vorrebbe andarlo a coprire un Omera Wynn SM in posizione perfetta per le sue caratteristiche mentre il tabellone del cronometro ci ha abbandonato io ho 1.13 il primo chilometro cavalli sulla dirittura apposta alle tribune con le posizioni che non mutano a questo punto Levriero attacca l'ultima curva con il comando Bellei che cerca di tenere ancora chiusa Omera Wynn SM si vuole far accompagnare da Pepe Dell'Alvio che sulle curve è un po' in difficoltà una spazio Pulcinella Jet, Levriero che adesso scappa, Omera Wynn SM che cerca di andare in caccia del battistrada quando siamo in dirittura d'arrivo, Levriero Rivarco che cerca di staccare, Levriero Rivarco al comando Levriero Rivarco che va fino in fondo e va a vincere nei confronti di Pulcinella Jet che regola Omera Wynn SM la vittoria per Levriero Rivarco, Enrico Bellei 1.43 la quota 1.57 il risponso cronometrico da confermare e vince molto bene nonostante Bellei lo richiami a fondo sino in dirittura di arrivo su una Pulcinella Jet che va dato al sodo e poi Omera Wynn SM 4-1-6 è tutto per la terza del San Paolo